Allora, siamo qui con Luigi e Leonora. Intanto volevo chiedere a Luigi il rapporto che ha con Marco. Quindi da quanti anni vi conoscete, i progetti che avete realizzato insieme, insomma, il sum up del vostro rapporto. Allora, io conobbi Marco del provino e ha iniziato a lavorare insieme a me, perché ero preso come il protagonista della famiglia musicale, dove c'era Naglio Rinaldi, Liones Bascini, insomma, c'era un po' di gente importante, quindi era un musical e mi ha dato subito prova. Insomma, ci avevo visto lungo perché è un ragazzo in gamba, un ragazzo bravo, poi è un ragazzo volenteroso e uno poi che prende subito le cose, perché sono uno di quelli che poi cambia l'indicazione del pubblico, le cose, eccetera, eccetera. Poi da lì abbiamo iniziato a fare anche altri lavori insieme, abbiamo lavorato per due anni insieme a Miss Muretto, abbiamo cambiato il format, abbiamo messo su una cosa molto carina, abbiamo avuto dei grandissimi risultati. Poi c'è stato un periodo in cui ognuno ha proseguito per la propria carriera, io ho proseguito sempre con commedie musicali, sempre in teatro e lui invece ha spinto, insomma, sull'acceleratore, sul discorso moda e bellezza, con grandissimi risultati. Sono contentissimo di questo progetto che mi ha tirato fuori e che secondo me era una cosa che in questo momento necessitava e lui ha avuto la lungiminanza di capirlo e di metterlo in prato. Assolutamente, rendolo anche attuale, particolare, insomma, bello e innovativo. E invece, Eleonora, volevo chiederti quale sarà il tuo ruolo all'interno di questo progetto, di questo nuovo progetto? Il mio ruolo, grandissima sorpresa anche per me oggi in conferenza, sarà quello di presentatrice per il Lazio, quindi sono molto onorata, conosco Marco da un po' di tempo, è un bravissimo ragazzo, un ragazzo che ha tantissima voglia di fare, ha sempre in mente cose nuove e sono sicura che questo è un progetto che farà parlare molto, perché è un progetto molto importante e si basa su dei valori principalmente e poi subito dopo sulla bellezza e sul saper fare, che anche quello è molto importante. Assolutamente. La preparazione, la preparazione è molto importante. Fatta verità, sono d'accordo. Beh, devo dire che ha creato una grandissima squadra. Siamo una squadra fortissima. Assolutamente, sono d'accordo. Come si dice, no? Sera di gente fantastica, ecco, questo è.